Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è miele e miele e poi c'è il sapore inconfondibile di Ambrosoli. Ambrosoli, il massimo del miele. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Belgrado rischia di diventare una nuova calè. I migliaia ormai sono arrivati qui. La rotta balcanica è ufficialmente chiusa e in realtà una strada ancora aperta. A regno dei trafficanti... Grazie a tutti.